La marcia di Como Senza Frontiere, che è stata dedicata a San Singh e a una delle più tristi e sconvolgenti vicende degli ultimi tempi. Ma in chiusura, prima di salutarci, vorremmo anche ricordare un'altra data, un'altra ricorrenza, perché nel 2001 a Genova, in una giornata come questa, veniva ucciso Carlo Giuliani, ragazzo, come recita quella lapide che non si è mai voluta sostituire sui muri della piazza di Monda, ma che invece è ormai infissa in tutti i nostri cuori e in tutte le nostre menti. Carlo Giuliani partecipava a quel grande movimento che voleva rendere possibile un mondo diverso da questo e nel 2001 sembrava davvero di potercela fare, di essere quasi a un passo, dopo quasi un quarto di secolo dobbiamo ammettere che invece da quell'altro mondo possibile ci siamo allontanati sempre di più. Questa è però la ragione per cui non possiamo smettere di manifestare e di testimoniare che questo mondo con queste regole, con questo sfruttamento, con questa morte continua, non è quello che ci appartiene, non è quello che vogliamo. Come di solito la marcia si conclude leggendo i nomi delle persone, le cui immagini abbiamo portato in marcia proprio perché non vengano dimenticate, perché il ruolo che nel nostro piccolo, piccolissimo ci siamo assunti, che quello anche di fare memoria è una cosa fondamentale e quindi leggiamo questi nomi anche se oggi ahimè sono veramente pochi. Satin Manzing, Rahel Ameb Mila Turajin Nazif Maslach Sofiane Jefaglia Hamzar Hibib Meruane Belabed George Floyd Yusuf Yakhite Yusuf Yakhite Yusuf Yakhite Gaila Satsu Grazie, arrivederci. Grazie